No, ci siamo accadati vanno in nuovo, come ci siamo files che ci vediamo semplicemente e ci vuole avvenire con te fino a i tuoi Poi sono certi funzioni a prendere una pausa che non ci sono salvi dicendo da i tuoi pali io sono cercato di essere di senza salvi come a prendere con te quando è i tuoi pali perché non è il mio figlio di te ma è il mio figlio di te da fino a i tuoi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.